Le acque sono agitate da ottobre, da quando l'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondra ha perso il suo presidente, Saverio Froio, eletto solo pochi mesi prima. Froio era subentrato a Walter Bianchini, che aveva guidato l'UPS per ben 16 anni. Nel frattempo è arrivato un nuovo presidente, ma le acque sono rimaste agitate anche nel nuovo anno. O forse, più semplicemente, i problemi dell'associazione, che conta quasi 5.000 iscritti e gestisce un fatturato da un milione di euro all'anno, sono semplicemente rimasti irrisolti. Domani sera è prevista a Sondra l'Assemblea dei Delegati della Pesca Sportiva. A tal proposito, alcuni associati hanno pronto un documento nel quale si ricorda che Regione Lombardia ha di fatto prorogato le regole in vigore. Si legge infatti in questo documento che Regione Lombardia ha giustamente prorogato le modalità di esercizio della pesca professionale e sportiva, in attesa di uno studio triennale che potrà definire eventuali limitazioni delle semine. Purtroppo, si legge sempre nel documento che ci è giunto in redazione, l'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondra, nelle figure del comitato di gestione attualmente in carica, propone una bozza di regolamento da far approvare all'Assemblea che noi non vogliamo, non dobbiamo, non possiamo accettare. In buona sostanza, domani in Assemblea si discuterà di un regolamento che limita tutte le attività di pesca fino ad oggi svolte e che non trova riscontro nelle altre province lombarde che hanno ripreso normalmente la loro attività di semina. Una delle scelte che molti pescatori valterinesi non vogliono accettare è quella che rivede profondamente le zone di pesca dove fino a ieri tutti i pescatori locali avevano libero accesso e che da domani diventeranno zone esclusiva a determinate tipologie di tecniche di pesca. Un piano semine, prosegue il documento che sarà presentato da alcuni pescatori, che individua solo alcune zone per le semine future, ghettizzando i pescatori in una sorta di laghetto di pesca sportiva, richiedendo agli stessi degli spostamenti che fino a ieri non devono essere fatti. Quale futuro possono avere i pescatori e la pesca, di fatto esautorando i pescatori dalle loro zone che tradizionalmente frequentano? Perché queste scelte non sono state condivise apertamente con tutti? Conclude il documento. Domani sera, all'Assemblea dei pescatori, che dovrà decidere il futuro dell'UPS, ci sarà dunque molto da discutere. Nel frattempo, nella regione Lombardia, Commissione Agricoltura, arrivano anche importanti novità sul fronte della caccia, che riguardano le prove cinofile e l'esame abilitativo per la caccia di selezione degli ungulati, perché anche per i cacciatori i temi di discussione non mancano mai.